Mancano i bombardamenti, ma le macerie da cui dobbiamo risollevarci richiedono la stessa forza e determinazione del passato. È molto forte la fotografia dell'Italia attuale scattata dal direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, ospite oggi a Piacenza del Lucid per incontrare gli iscritti all'associazione e presentare il suo libro Promemoria Italiano. Non siamo affatto fuori pericolo, abbiamo scampato il pericolo più grande. Però, diciamo in questo ipotetico promemoria, vorrei lanciare un messaggio preciso, cioè l'Italia è un grande paese, abbiamo commesso molti errori, alcuni gravissimi, però dentro la storia di questo paese c'è la storia di un paese che è rinato dalle macerie della guerra, in pochi anni si è trasformato un paese agricolo di secondo livello in una grande economia industriale. È bene ricordarci quell'esempio lì, perché le nuove macerie di oggi sono il lavoro che non c'è, e non solo per i giovani. Pensate a quanti a 45 anni, 50 anni che hanno avuto una vita di lavoro si trovano dalla sera alla mattina senza una prospettiva. Il risparmio, le angosce sul risparmio, le angosce su una situazione di crisi molto grave. Allora in questi momenti di solito gli italiani sanno fare il meglio di sé. Sulle primarie del centro-sinistra di domenica il giudizio di Napoletano è positivo. Hanno fatto molto bene al Partito Democratico, ma ancora prima che al Partito Democratico hanno fatto molto bene alla politica a questo paese, perché si è visto che nonostante tutto c'è stato un ritorno, come dire, una partecipazione, per cui gli italiani hanno dimostrato ancora di credere in qualcosa e di avere fiducia a questa politica. E sul ritorno in campo di Silvio Berlusconi l'opinione è altrettanto netta. Devo dire che Berlusconi ha compiuto un gesto importante il giorno in cui si è dimesso. Io ricordo, ripeto, questo titolo, fate presto, avevamo già chiesto le dimissioni di Berlusconi un mese prima, perché c'era una particolare crisi europea, internazionale, ma c'era anche una particolare crisi di credibilità specifica italiana. E quindi lui, in quel caso lì, diciamo, ha dimostrato un senso di responsabilità. Però bisogna anche prendere atto che alcune stagioni politiche, che tra l'altro richiederebbero nel caso specifico valutazioni molto, come dire, molto dure, non in tutte le stagioni, perché molti di quando è nato Berlusconi nella fase iniziale, molti hanno creduto in una scelta realmente liberale. Come abbiamo visto, lo sviluppo non è stato minimamente all'altezza della prospettiva iniziale e credo che anche un politico faccia parte delle qualità di un politico riconoscere quando una stagione è finita e, come dire, ci sono modi e modi per uscire. Infine, una battuta sul futuro ruolo del Premier Mario Monti. Io credo che possa servire questo Paese in tante forme. Se vuole continuare a governare questo Paese, credo che un Paese come l'Italia abbia bisogno di un passaggio elettorale.